Non esistono operatori sanitari che spontaneamente si presentano a casa per il tampone sul coronavirus. Non vengono dimezzate temporaneamente le pensioni per l'emergenza, non arrivano agli elicotteri per la disinfestazione. Coronavirus, attenzione alle bufale e soprattutto alle truffe. La prima, già segnalata a più riprese, riguarda presunti operatori sanitari che con la scusa di dover effettuare spontaneamente un tampone entrano in casa di anziani soli per rubare o rivistare nei cassetti. È bene ricordare che nessun medico o infermiere si presenta spontaneamente per fare un tampone. Si tratta di ladri e truffatori. Poi una bufala che sta circolando nelle ultime ore anche nel Comasco della quale è già stata informata la Questura e riguarda le pensioni. Una finta comunicazione dell'Inps con la quale si informa che per l'emergenza sanitaria le pensioni di aprile verranno pagate al 50%. Falso, tutto falso, una fake news. Così come un'altra leggenda che sta circolando nelle ultime ore che annuncia disinfestazioni notturne e apocalittiche con elicotteri. Si tratta di bufale messe in circolazione da persone irresponsabili, con pochi scrupoli e ancor meno cervello. Il consiglio è di attenersi solamente alle fonti di informazioni ufficiali e accreditate ed evitare di far circolare queste fake news.